come sta? ha voluto provare il riscaldamento, abbiamo avuto Pavel che alle 6 attaccò il virus intestinale, nel tunnel prima di entrare agli spogliatori, si è sentito non bene per usare un eufemismo, non ce l'ha fatta, non tutto prima, e anche Gigi in Italia ha provato fino alla fine perché ovviamente nel periodo in cui abbiamo avuto tre gare una settimana siamo stati farciliati da qualche infortunio di troppo e quindi diversi ragazzi sono stati impiegati per tre gare questa dimostrazione della disponibilità e della qualità di questo gruppo, non dobbiamo accontentarci perché oggi, ripeto, dobbiamo tutti quanti essere un briciolo avviati perché questa non è una partita che deve finire 1-0, perché in passato partite simili siamo stati in grado di rimetterle in gioco e quei punti poi non te li ritorna indire nessuno. Ma solo l'ultima cosa mister, tutti questi infortuni muscolari te li spieghi casualità perché magari può anche essere una casualità? Ci volevo portare infatti perché non sono purtroppo tutti questi infortuni muscolari perché ora ti direi nei numeri, ti direi una stupidaggine perché ancora non l'ho fatto, semmai poi la prossima volta sarò più preciso, ma non sono tanti infortuni muscolari perché Matos non è muscolare, perché Ragusa non è muscolare, perché Danzi non è muscolare, perché Munari non è muscolare, perché Davidoviz oggi non è muscolare, perché ci sono anche dei ragazzi che hanno avuto dei problemi muscolari, però in un'annata ovviamente siamo nella norma, che non siamo stati nella norma in altri tipi di infortuni che purtroppo ci hanno colpito e in questo momento stiamo pagando. Però ho detto ai ragazzi che proprio nei momenti difficili si riescono a costruire stagioni importanti e oggi abbiamo messo un piccolo tassellino per poter essere più forti in futuro quando poi saremo con meno ragazzi infortunati. Grazie.